Perché ho acquistato sul mercato azionario quando da ottobre, novembre, addirittura da settembre avevo detto che la mia visione sul mercato era ribassista? Per quale motivo ho tradito la fiducia di chi mi segue su questo canale, la fiducia di investitori, di trader che usano il mio canale per prendere spunto, per andare a capire meglio che cosa devono fare riguardo i mercati? Di questo oggi voglio parlarvi ragazzi di perché ho tradito la vostra fiducia. Salve a tutti, Marco Casario qui e la partenza era un po' ironica e melodrammatica, l'ho voluta rendere così solo per dirvi ragazzi un trader deve fare e deve andare avanti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese seguendo il suo trading plan, seguendo quello che i grafici stanno facendo e non quali sono le sue idee di breve o medio termine o in maniera soggettiva quello che crede possa succedere perché ha una visione macroeconomica, rialzista o ribassista. È il grafico che parla, è il grafico che dice ad un trader quello che deve fare. E che cosa è successo in questo periodo? A settembre ve lo ricorderete, se non ve lo ricordate andatevi a vedere i miei video di settembre, quelli in cui vi avevo annunciato con la flessione che era cominciata sul Nasdaq, che questa volta aveva, a differenza del passato dove è sempre il Dow Jones ad iniziare la discesa, aveva lui iniziato quella discesa, una discesa che poi ha sancito un mercato ribassista. E quindi ho cominciato a dirvi e a raccontarvi qual era la mia visione macroeconomica a livello Stati Uniti ma anche a livello mondiale della grosso debito su cui tutti gli stati sono seduti, su cui noi stessi siamo seduti. Ragazzi oggi ho fatto un post su Instagram, mi raccomando se ancora non mi seguite su Instagram trovate il link qui sotto, andate immediatamente a seguirmi su Instagram perché giorno dopo giorno lì anche pubblico delle piccole condivisioni, dei pensieri, anche delle riflessioni di trading che faccio, quindi seguitemi mi raccomando, scrivendovi quanto l'Italia, numeri alla mano, è in recessione e quanto invece i media non ce lo vogliono far credere. Ogni volta che faccio un video sull'Italia parlandovi della grave situazione economica o finanziaria dell'Italia comincio, scateno dei video, dei commenti veramente estremamente così forti su Marco ma che cosa stai dicendo? L'Italia è la terza potenza europea, è l'ottava potenza mondiale, che cosa stai dicendo? Ragazzi numeri alla mano, siamo in un periodo di forte recissione, di grandissime crisi economica, i media, i mainstream media di questo lo sapete dove spostano la nostra attenzione, io non capisco perché questa cosa non è sotto gli occhi di tutti, spostano l'attenzione sulla scena politica e quindi che cosa succede? Che la narrativa che leggere sui giornali è una narrativa del tipo è colpa della sinistra, è colpa della destra, è colpa del centro, è colpa di Salvini, è colpa di chi c'era prima di Salvini, è colpa della Raggi a Roma, è colpa di qualche contesto politico? Ma la verità, nessuno ci dice sui mainstream media dal punto di vista analitico, oggettivo, numerico, la crisi che stiamo affrontando. Ma questo solo per dirvi che ho cominciato a parlarvi, quindi cercare di darvi degli spunti per riflettere, su cui riflettere e quindi i grafici ragazzi hanno cominciato a scendere, hanno cominciato ad entrare quasi in una fase di recessione, hanno cominciato a perdere il 15% e poi il 18% e poi il 20%, siamo entrati quindi in una fase ribastista e io ho cominciato a dirvi in questo momento ragazzi che cosa mi stanno dicendo i grafici, che sta scendendo tutto e ho aperto posizioni short, ho venduto delle call, ho venduto delle call o ho comprato delle putt a seconda del contesto di mercato. Poi è successo qualcosa a gennaio, a gennaio è rallentato tutto, o meglio non ha rallentato, si è fermato e il grafico è salito dalla parte opposta, è salito dalla parte opposta e ha cominciato con due o tre belle candele verdi, ha cominciato a rialzarsi, il che non ci può far dire dal punto di vista dell'analisi del trend che è finito il trend ribastista e siamo entrati in un trend rialzista, no, ma c'è stato quello di cui ho parlato ieri, piano piano il melt up, il cosiddetto melt up, i mercati hanno cominciato a riprendersi e secondo voi qual è il compito di un trader? È quello di guardare i mercati e continuare a dire a braccia incrociate, no, 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 ma qui c'è la crisi del debito, ma qui adesso scende tutto, questo è solo un rimbalzo e poteva essere un rimbalzo, ma io non faccio niente, quindi sto a guardare perché secondo me questo è un rimbalzo, secondo me questa è la crisi e quindi adesso scenderà tutto e magari anzi apro operazioni in short, anche se i grafici stanno andando verso l'alto, secondo voi è questo il lavoro di un trader? No, no ragazzi, a volte il più grande limite di un trader è il vostro cervello, è la vostra testa, siete voi il più grande limite, perché fate questo errore, cioè quello di non guardare quello che realmente sta succedendo sui grafici, i grafici a fine gennaio o a febbraio, quello che ci hanno detto era che il mercato stava ricontinuando a salire, stava ricontinuando a salire in maniera non drammatica e forte, ma piano piano, e allora che cosa ho fatto? Ho aperto posizioni long, ho chiuso le posizioni short, che ovviamente le ultime sono andate in perdita, normalissimo andare in perdita, le ho chiuse seguendo che cosa? Le mie strategie e seguendo il posizionamento dello stop loss, secondo il mio money management e il mio profilo di rischio, e ho cominciato ad aprire operazioni in acquisto, ok? Soprattutto sull'azionario, perché a quel punto il mercato mi stava dicendo, andiamo verso l'alto, andiamo verso l'alto, e quindi ho cominciato che cosa? Guarda, ve lo faccio vedere qui sulla mia piattaforma, guardate, questa è la mia piattaforma, vedete qui, ho, adesso potete vedere qui sulla porzione di, sulla colonna unrealized profit and loss, quello che vedete sono le operazioni che ho aperto e il totale delle azioni che ho aperto long, tutte quante operazioni in acquisto che ho aperto, e il profitto attuale è quasi del 13%, in meno di un mese, aprendo posizioni long ho fatto il 12,7% alla chiusura di venerdì, sono 10.000 dollari di profitto, fatto aprendo un certo numero di posizioni, alcune posizioni le ho anche aperte in maniera più importante, lo vedete da quanti contratti ho preso, perché? Perché in quelle aziende le conosco molto bene, quindi la mia intenzione è di speculare velocemente, e poi chiudere nel momento il mercato dovesse finire questo momento, questa gamba rialzista, e vedete qui ho aperto, le vedete alcune azioni, no? Inviti e Spotify sono le, insieme a AMD, sono le tre azioni che stanno guadagnando di più, addirittura Spotify sta guadagnando 4.100 dollari, quindi si fa quasi il 50% di quel profitto, ma poi ho aperto anche altre posizioni con lo spread trading, questo per dirvi, ragazzi, che non è che un trader sta fermo perché pensa alcune cose, perché la sua visione è una visione rialzista o ribassista e ignora completamente quello che sta succedendo sui grafici, no, non fate mai questo errore, se il vostro trading plan con le vostre strategie vi dice di, a seconda di come si sta comportando il grafico sul mercato, aprire in long o aprire in short, quindi acquistare o comprare, dovete farlo, anche se la vostra visione di medio-lungo termine è una visione rialzista o ribassista, quante volte vi ho detto so che c'è una crisi, ci sarà una crisi, questa crisi sarà molto probabilmente anche più importante e profonda della crisi del 2008, ma questo non mi fa rimanere fermo, paralizzato, immobile, perché, oddio, ho paura adesso che ci sarà la crisi, no, io continuo a fare quello che mi dicono i grafici e se i grafici vanno verso il basso mi comporterò in un certo modo e applicherò strategie per rispondere a quello scenario, se i mercati andranno verso l'alto cambierò completamente strategia e approccio, ma i grafici sono la rappresentazione visuale di quello che gli investitori fanno, quindi, i commenti che ho visto questi giorni, nei quali avete detto ah Marco, ma tu avevi detto a gennaio, a dicembre, a ottobre, a novembre che il mercato era ribassista, che ci sarebbe stata la crisi, ragazzi, ma io vi ho sempre detto nessuno sa quando inizierà la crisi o quando inizierà la recessione, nessuno lo sa io, come vi dico sempre come trader, mi tengo invece pronto a rispondere allo scenario di mercato che si sta verificando lo scenario di mercato che si sta verificando a ottobre, novembre, dicembre, gennaio era uno scenario estremamente ribassista e in quel momento mi sono comportato con le strategie ribassiste seguendo il mercato quello che stavano facendo i grafici ho aperto delle posizioni ho guadagnato fino a che il mercato non ha girato se adesso siamo in una fase di diciamo così di ritracciamento per poi avere una gamba ancora più profonda verso il basso io non lo so lo posso pensare in base alle informazioni che raccolgo in giro e all'idea che mi faccio ma la mia strategia il mio trading plan è portato avanti da quello che vedo sul grafico mi raccomando non fate questo errore e non seguite il mio canale pensando che vi stia dando dei segnali non fatevi influenzare da me fate i vostri compiti a casa abbiate il vostro cervello e agite secondo il vostro trading plan e secondo le vostre strategie non secondo quello che dice Marco Casario o qualsiasi altro youtuber o qualcosa che leggete ragazzi se non avete un diario di bordo se non avete un trading plan con delle strategie precise che vi dicono come comportarvi in base a quello che fanno e a come si comportano i grafici nel trading sarete perdenti sarete perdenti ecco perché i trader perdono nel trading perdono perché non hanno una strategia che li guida una strategia vuol dire un portafoglio di strategia che li guida non hanno questo diario di volo di bordo che gli dice come comportarsi in base a quello che succede e non in base a quello che hanno sentito al telegiornale o hanno letto da un analista o hanno sentito dire da Marco Casario non fate quest'errore ragazzi mi raccomando allora direi che per oggi è tutto ricordatevi sempre questo nel trading il vostro avversario siete voi ancora prima che i mercati i mercati sono solo una conseguenza di quello che fanno migliaia milioni di investitori e voi dovete avere la strategia e l'approccio per comportarvi di conseguenza il vostro avversario maggiore siete voi il vostro cervello la vostra psicologia la vostra emozione ed è per questo che dovete avere una strategia per togliere la parte emozionale dal vostro far trading ragazzi mi sentivo veramente di dover fare questo video per dirvi e una volta per tutte una cosa è la mia visione di lungo termine una cosa è come agisco poi sui mercati e questa era la dimostrazione perfetta lo avete visto come agisco sui mercati non ho tradito voi non ho tradito la mia politica il mio trading plan anzi ho seguito il mio trading plan quando c'era da andare short sono andato short quando ho dovuto chiudere le posizioni in perdita perché il mercato aveva girato ho chiuso le posizioni in perdita quando c'era da aprire posizioni long le ho aperte e adesso sto sfruttando quest'onda quanto durerà non lo so perché io so già dove stanno posizionati i miei stop loss e i miei take profit anzi sto facendo un trailing stop a dire il vero in questo momento sul mercato azionario perché secondo me il mercato azionario visto che deve rientrare un sacco di cash può salire ancora un po' di più per oggi è tutto grazie mille per l'attenzione un like se questo video vi è piaciuto se non siete ancora iscritti sul canale iscrivetevi come al solito buon trading a tutti ciao